...mentre le altre fanno da comprimarie. Ritornano in gruppo le coreane, visto che l'effetto sorpresa non ha avuto esito. Ripassa in testa la Wong, ancora Yang Yang, poi la Chun, poi la Wong, l'altra cinese, Wong, chiude la Radanova. Ancora che si riporta in testa di nuovo la Wong. Andatura che aumenta. E ora c'è Yang Yang che approfitta. Viene subito sorpassata di nuovo però dalla Wong, mentre in testa è sempre Lee Kyung Chun. I due coreane e poi i due cinesi, Radanova che cerca di farsi luce. Compito difficile per lei, unica rappresentante di una nazione che non sia Cina o Corea. Su sei partecipanti a questa finale. Ora c'è l'attacco della Yang. L'attacco della Yang che si porta in testa davanti alle coreane. La prima dovrebbe essere la Wong. Giro conclusivo con Yang Yang e prima e seconda le cinesi e terza la Radanova. Coreane che si auto eliminano con un errore nell'ultima curva dove hanno cercato di passare molto all'interno. Grazie a tutti.